Qualcuno ha aperto la finestra? Sì, la finestra è già stata aperta. Qualcuno ha già controllato questi quaderni? Sì, sono già stati controllati. Non si potrebbe scopare il pavimento? Sì, lo scoperemo subito. Non si potrebbe dirglielo? Sì, gli è stato già detto. Qualcuno li ha già invitati? Sì, sono già stati invitati. Non si potrebbe servirlo? Sì, sarà subito servito. Qualcuno ha riparato questa macchina? Sì, è già stata riparata. Non si potrebbe trovarli? Sì, saranno trovati subito. Qualcuno ha affilato questo coltello? Sì, è già stato affilato. Non si potrebbe affilare questi coltelli? Sì, saranno subito affilati.